Art Discount Siete creativi in cucina? Ecco quello che fa per voi! Concorso la ricetta vincente Art Discount Partecipare è facilissimo! 1. Registrati nel sito concorso.artdiscount.it 2. Vuoi mandarci la tua ricetta o votare le ricette di altri? Se hai deciso di partecipare con i tuoi manicaretti Crea una ricetta con gli ottimi prodotti a marchio Art Scatta una foto del piatto con i prodotti adoperati 3. Descrivi la ricetta e inviala dal sito Puoi partecipare con ben 8 ricette A scelta tra le categorie Antipasti, Primi, Secondi e Dolci A questo punto 4! Invita i tuoi amici a votarti! Tantissimi buoni spesa in palio per tutti! Le 5 ricette più votate per categoria saranno valutate da una giuria di esperti 500 euro in buoni spesa ai primi classificati per ogni categoria 100 euro in buoni spesa ai restanti piatti più votati E per chi vota? Ogni giorno un premio immediato di 50 euro in buoni spesa Potrai votare una volta al giorno, tutti i giorni, fino all'11 dicembre E vincere! E poi vincere! E ancora vincere! Dal 31 ottobre all'11 dicembre 2016 Concorso La ricetta vincente Art Discount Conviene sta per scegliere